I temi dell'ambiente potrebbero essere al centro dell'interesse del prossimo governo e forse lo stesso ministro dell'istruzione sarà una persona, un tecnico o un politico poco importa a questo punto, sensibile, attenta ai problemi dello sviluppo sostenibile. Il Movimento 5 Stelle sta infatti chiedendo con forza Mario Draghi l'istituzione di un vero e proprio Ministero della Transizione Ecologica, in analogia a quanto sta accadendo in altri paesi europei e il presidente incaricato avrebbe già accolto con favore questa richiesta. La proposta è stata rilanciata dallo stesso ex ministro Fioramonti che proprio nelle ultime ore ha persino sottolineato la necessità di inserire il principio di sostenibilità nella Costituzione. È molto probabile che il tema possa assumere un ruolo centrale anche in altri dicasteri. I più indicati a declinare in chiave ambientalista il proprio programma potrebbero essere proprio quelli dell'istruzione e della cultura. Potrebbe quindi riaprirsi il dibattito sulla educazione civica che già il ministro Fioramonti aveva voluto aprire al tema dello sviluppo sostenibile. Prospettiva indubbiamente importante che dovrebbe servire anche a superare la tentazione, sempre presente in questa o quella forza politica, di presentare il consueto disegno di legge finalizzato ad introdurre l'ora settimanale di educazione ambientale. Una eventuale vocazione ambientalista del prossimo Ministero dell'istruzione potrebbe avere conseguenze importanti sulle scelte in materia di edilizia scolastica. I futuri investimenti in questo settore potrebbero essere finalizzati proprio a costruire nuovi edifici con criteri innovativi anche dal punto di vista energetico, senza dimenticare la possibilità che il tema dello sviluppo sostenibile diventi un aspetto importante della stessa formazione professionale dei docenti. Ma ci potrebbero essere anche altre conseguenze meno eclatanti, ma non per questo irrilevanti nella vita quotidiana di insegnanti e studenti. Per esempio potrebbe esserci una accelerazione nel passaggio verso i libri di testo digitali, considerati più sostenibili in quanto si tratta di prodotti immateriali e potrebbero arrivare finanziamenti importanti per l'attivazione di progetti didattici green, come la scuola all'aperto per esempio. Oltretutto si tratterebbe di spese che potrebbero essere agevolmente coperte con il recovery fund che le stesse autorità europee chiedono proprio di destinare più a questi scopi che alla spesa corrente per pagare il personale. Il tema ovviamente è molto rilevante, è il tema del giorno, di questo noi continueremo ad occuparci, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it Continuate a scriverci, a mandarci i vostri commenti e noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.